Stamattina al Bar Bella Vista si è svolta la presentazione ufficiale della lista civica di Fratelli d'Italia, una squadra composta sia da donne che da uomini con l'obiettivo di una rinascita della città al fianco del candidato sindaco Luca Serfilippi. Hanno partecipato all'incontro la coordinatrice regionale senatrice Elena Leonardi, il coordinatore provinciale consigliere regionale Nicola Baiocchi e i candidati presentati allo start della campagna elettorale. Alvia quindi la partenza per la corsa alle elezioni. Presentazione della lista di Fratelli d'Italia a sostegno del candidato sindaco Luca Serfilippi. Sì, oggi presenteremo la lista dei candidati per Fratelli d'Italia a sostegno della candidatura di Luca Serfilippi, quindi ci proponiamo di mettere in campo una squadra di donne e uomini che saranno in grado per le capacità, le specificità proprie, di dare il giusto contributo alla coalizione tutta, al candidato sindaco e che metteranno sicuramente in atto tutti i propositi che in questi anni, nel corso di questi anni, ci siamo prefissati sui temi essenziali della città, tra cui la sicurezza, la viabilità, lo sviluppo economico, l'inclusività e proprio perché tramite perseguire questi obiettivi significa rendere una città più bella, più sicura, più vivibile ed è, devono essere assolutamente il biglietto da visita di Fano. Che cosa vi aspettate dai cittadini fanesi? Ci aspettiamo fiducia, ci aspettiamo riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi, fiducia che i cittadini, tutti in generale, riconoscono a Fratelli d'Italia e a Giorgia Meloni. Indubbiamente tramite il consenso elettorale è possibile concretamente mettere in atto tutte le azioni che noi ci proponiamo per dare a Fano il valore che merita. Le aspettative di questa campagna elettorale? Pensiamo che sarà una campagna elettorale importante, bella, vincente e Fano merita una nuova opportunità, Fratelli d'Italia insieme al candidato Lucas Erfilippi vuole costruire e dare un futuro nuovo a questa meravigliosa città.